A che tempo che fa? Alessandro Baricco. Ciao Alessandro, benvenuto. Grazie, grazie. Poi parliamo anche di Abel. Quando vuoi. Anche di Abel, è stato interessante. Sì, 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 sì. Anche prima. Sì, bene, fa piacere. Non mi staccavo dal... Non so se sei dal video. Bene, mi fa piacere. Sì, sì. Alessandro, dunque, io vorrei questa sera proprio non sprecare l'occasione di avere Alessandro Baricco. C'era un'attesa pazzesca per il tuo arrivo. No, te lo assicuro. Poi ti do dei particolari anche che adesso non posso... Sì, voglio i particolari. Però non davanti a tutti. Allora, comunque, c'era molta attesa. Una volta Mario Monicelli, in questa trasmissione, mi diede una... disse una cosa di quelle che poi ti formano e non si dimenticano mai. Mi disse, sai qual è la domanda più difficile che si possa fare a qualcuno? Perché presume che l'altro, in qualche modo, che ci sia una simpatia nel vero senso della parola, cioè che ci sia un identico modo di sentire. La domanda più difficile che si possa fare a qualcuno è come stai? E quindi te la faccio, diciamo, con la consapevolezza di quanto sia difficile questa domanda e anche questa risposta. Naturalmente te la faccio con molto affetto. Come stai? Eh, come stai a me in questo momento è complicato. Dipende un po' da dove la guardi, diciamo. Però, alla fine... No, credo che la risposta più onesta sia bene. Sto bene. D'altra parte non sarei qua. Certo. Poi, sono uno che ha passato l'estate in un ospedale, non so dove eri tu, io ero al San Raffaele. Sì, no, io ero a casa. Era una piccoletta pausa. Se passi molto tempo all'ospedale lasci giù dei bei pezzi di te. Certo. E quindi quando esci, guarito o meno guarito, hai comunque un cammino da fare che è recuperare pezzettini e pezzettoni. Ed è proprio una specie di salita. Sai, non dico che sei una pianta, però... Io ricordo sta cosa che... Dovevo lavarmi i denti e sei così debole che non riuscivo a fare il gesto di lavarsi i denti. Che è una delle cose più semplici che puoi fare. E tutto quello che poteva fare era riuscire a tenere fermo lo spazzolino con i bracci e poi con la testa... E mentre facevo questa roba, diciamo, ma guarda che il corpo dove ti porta, la vita dove ti spinge. Poi pensavo uscirò mai da tutto questo, eccetera. Adesso vado benissimo, anche di rovescio. Non c'è un problema. Faccio la barba... Va bene, ma insomma... Per cui un grosso cammino che non è finito, ci sono ancora tante cose da recuperare. Il salto con l'astano non lo faccio. E si recupererà piano piano, insomma, e si impara a vivere ogni giorno intensamente, no? C'è una lentezza implacabile, ma è lentezza... Tu hai detto una cosa, che l'esperienza della malattia ti ha obbligato a un viaggio alla scoperta del corpo e della sua potenza. Cioè hai detto, è quasi più affascinante di qualsiasi esperienza intellettuale, perché ci si accorge del proprio corpo, di che cosa può fare il corpo, è come quando si scopre il sesso, in qualche modo. Cioè dice, non sapevo che il mio corpo potesse fare anche questo. Ecco, io ti chiedo, capisco cosa vuoi dire, ma non ci si accorge anche, in qualche modo, della sua autonomia? Cioè del fatto che il corpo fa cose che non dipendono in nessun modo dalla tua volontà? Cioè non fa girare un po' le scatole, sta cosa? Ma, guarda, ognuno di noi ha un modo un po' suo. Io penso che io e lui abbiamo lavorato insieme tutta la vita. E lui, dei due, nel senso di lui e della mia mente, lui è quello sempre che è arrivato un po' prima sulle cose. Spesso cercando di farmele capire. Poi non so, quando sei giovane non senti niente di quello che viene da lui. Poi impari poco a poco. Però alla fine penso che lui è un pezzo di me che lavora e si muove armonicamente con gli altri pezzi. Che non l'ho mai vissuto, nemmeno quando mi lavavo i denti muovendo la testa. Non l'ho mai vissuto come una zavorra che mi è accaduto di portare in un viaggio assai più raffinato che avrei sognato e che volevo fare. No, lui è il mio viaggio. E anzi, guarda, se tu pensi quante cose nella vita è lui che l'è detta. Comincio a pensare davvero che il maestro e lui, ci sono delle esperienze belle e brutte. Insomma, attacchi di panico, che è una cosa del corpo geniale. Cioè tu non stai bene al mondo, non vuoi dirtelo, non lo sai, non hai tempo di dirtelo. Ci pensa lui. On off ti spegne, sei come morto. Ed è una cosa che ti è compagata tutta la vita. Cioè si risolvono gli attacchi di panico, lo voglio dire a quelli che ce l'hanno, si risolvono. Però quelli che hanno avuto gli attacchi di panico sono dei certi umani e gli altri sono diversi. Però anche della parte positiva, se tu pensi quante vite sono state assegnate da un desiderio per una donna o per un uomo. Allora, quel tipo di desiderio certamente c'entra anche la mente, c'entra un certo istinto, c'entra perfino una forma di spiritualità. Però il corpo di quella danza lì sta sempre al centro. È lui che decide. Ti fionda intere parti di vita in una direzione. E non ti sei arrabbiato col tuo corpo, anzi? No, no, no. Quando mi è successa questa cosa l'ho guardata e ho detto lo sapevo, lo sapevo che prima o poi me l'avresti detto. Adesso vediamo di capirci. Siamo stati insieme e abbiamo vissuto dei momenti pazzeschi. Senti, tu sei sempre stato molto riservato su tutti gli aspetti privati della tua vita, no? Però la tua esperienza della malattia l'hai comunicata pubblicamente. Come mai hai fatto questa scelta? Un po' era una cosa pratica perché incomincia a scomparire un po', ti arrivano inviti, la gente comincia a chiedersi come mai sei diventato così stronzo che non vai nemmeno al tuo liceo a parlare, no? E allora a un certo punto lo devi dire, che non stai bene, cioè che hai preso questa via e lo devono capire. E quindi i social non c'erano un tempo, ora è un sistema per farlo. A me è accaduto due volte di farlo. Ho dato un messaggio pubblico in delle curve fondamentali di questo mio cammino qua. Mi è sembrato anche molto pratico, molto utile. Mi ha regalato una sensazione che non mi aspettavo, cioè lo dico sinceramente. Io ho scoperto che c'è un sacco di gente che mi vuole bene. Ma non lo sapevi? No. Ma come lo sapevi? No, 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 guarda io ho girato anche il mondo, arrivano con i loro libri eccetera. Però non so dirti, io quella roba lì, quell'ondata di affetto vero, cioè di gente che mi doveva qualcosa, oppure che aveva passato con me pezzi della loro vita, aveva dato senso a delle nefandezze della sua vita per cose che avevo detto, scritto, commentato, e che in quel momento gli veniva a mancare un maestro, diciamo, a cui però loro avevano troppo, con cui loro avevano un'intimità, cioè tutta sta roba veramente, poi io ho un'esperienza e un passato da persona piuttosto mal sopportata, perché un po' prepotente, un po' arrogante, troppo di successo, avevo tutto. Da rompere le scatole che gli va tutto bene. Sì, cioè non ero abituato che il mondo mi volesse bene, sinceramente, cioè sì, un ristretto mondo. E lì mi ricordo, io ero già all'ospedale, in quelle 48 ore lì, mi accade proprio che mi si riversa addosso a sta roba. È stata un'esperienza per me molto forte. Dopodiché, questa roba che le malattie dei VIP, diciamo così, mi autoiscrivo in quella lista lì, oggi siano diventate una notizia prelibata, ecco, questa è una cosa che mi auguro di non aver creato anch'io. Assolutamente, sei stato bravissimo. Boh. Poi ognuno davanti a quei momenti della vita così difficili fa quello che è cavolo. Tutti i modi di reagire sono leciti. Sono tutti leciti. E legiti. Però lì è scattato un giro un po' virtuoso, vizioso, per cui comincia a vederne uno, poi si inanellano due, poi ci sono più, cioè te la raccontano nei dettagli e vai avanti. Ecco, è quello, ma non perché sono torinese e sono molto riservato, ma proprio ogni tanto temo che generi un po' un effetto paura, cioè che tu li vedi, proprio tu scorri e vedi passare uno, due, tre, con queste malattie serissime, no? Non lo so, non lo so se diamo il messaggio giusto, ecco. Cioè vorrei dire che la mia malattia, che io sappia, se la prende uno su centomila. Quindi state tranquilli, tutti voi altri 99.999, ci ho pensato io. Stiamo parlando comunque di anomalie, non bisogna pensare che la malattia grave sia l'esperienza degli umani. Infatti quando ci siamo sentiti per salutarci prima di vederci stasera, hai detto, mi raccomando, non dobbiamo spaventare, no? No, no, no. Io però ti chiedo, invece, per quali motivi noi non dobbiamo essere spaventati, non dalla malattia, ma da questi tempi che stiamo vivendo? In cui i tuoi barbari sono diventati dei gentleman, per un certo verso, come avevi predetto. Ma la paura è un lusso che noi ci permettiamo, commettendo un errore. La vendiamo molto? Molto, molto, molto. I media la vendono molto. Perché è una merce che piace, la diffondiamo molto, la cerchiamo, ma è uno degli errori che stiamo commettendo. Di solito si fa anche questa cosa un po' macista, un po' di destra, di confrontarla, di metterla da una parte e dall'altra c'è il coraggio. Come dire, siamo una civiltà che ormai ha tanta paura e non ha più coraggio. Ma non so, è difficile da capire. Però, ad esempio, una cosa che io ho capito è che la paura c'entra, vabbè, col coraggio può darsi, ma c'entra col desiderio, alla fine. Cioè tu cominci a smettere di desiderare e cominci ad avere paura. Perché alla fine, che so, Romeo che scala, che scala l'edera, la parete, in un posto in cui si lo becchiano e gli aprono un culo, non finisce più le famiglie che si odiano. Lo fa perché è coraggioso? No, perché Romeo non è coraggioso, è giovane. Ma nel punto veramente in cui dovrebbe essere coraggioso di quella tragedia non lo è. Cioè quando muore la donna che lui ama, lui si ammazza, non è coraggioso, il coraggioso vive, vive. Per cui non è un uomo coraggioso, ma è un uomo che desidera da morire. Cioè tu fai queste cose pazzesche, quando c'hai qualcosa che desideri ed è più forte di te, ma è nell'esperienza quotidiana della gente. Cioè va a dire, ma cosa hai fatto con la roba? Sì, ma che c'è una voglia veramente pazzesca. Cioè è la voglia che sconfigge la paura. E quindi qui non è tanto, credo, una questione di moltiplicarsi della paura, quanto di decantare e decadere dei desideri. E questa, mamma mia, questa mi fa incazzare perché proprio c'è una civiltà che è diventata incapace di desiderare cose diverse della settimana bianca o la macchina con il riscaldamento al volante. Io ho una macchina con il riscaldamento al volante. Ma come se la sono studiata? Come possono pensare che abbia spazio di desiderio per un volante riscaldato? Non sapevo. Ah, non lo so. Ho appoggiato lì tu una volta e scottavo. Ho detto, che succede? Senti, però ci siamo avvoltolati da una serie di desideri, ma il desiderio che spara, quello fa fuori la paura. Senti, in che cosa questo nostro tempo è migliore di quello in cui siamo cresciuti io e te? In tante cose. E io e te non dobbiamo fare l'errore di dimenticarcelo. Ti faccio un esempio. Vai. Chissà quante volte tu hai parlato del pericolo della bolla. La bolla in cui viviamo. L'avrei parlato relativamente ai tuoi figli. Ma perché sei una persona intelligente ed è un ragionamento intelligente quello della bolla. No. È una delle cose più semplici che noi temiamo della civiltà digitale. E lo diciamo veramente in maniera schietta. Ora, ferma tutto. Riacquisisci una forma di lucidità che è quella che noi dovremmo avere a nostra età. E prova a tornare a quando tu eri piccolo. Allora, io quando ero piccolo avevo un telegiornale. Vivevo in Italia, a Torino. Avevo un telegiornale che mi raccontava il mondo. In alternativa disponevo della stampa, cioè il giornale dell'uomo più ricco d'Italia. Avevo anche un'altra fonte di informazione che era la parrocchia, io ero credente, e gli scout, un allegato. Ora, in quegli anni c'era la guerra del Vietnam. Ora, nella mia bolla, io avevo la minima possibilità di pensare qualcosa di diverso da... I Viet Cong sono cattivi, sporchi, destinati alla sconfitta e manovrati evidentemente dal demonio. Nessuna possibilità. Quella era una bolla. Le parrocchie erano bolle. Non avevamo nessuna possibilità. Abbiamo dovuto aspettare di essere grandicelli per avere una riforma che è qui stata ricordata, per cui c'era almeno uno di un altro partito che aveva un altro telegiornale, che diceva, guardi, comunque i Viet Cong sporchi non sono. E noi dicevamo, allora già questo ti destabilizzava, perché tu pensai che... Noi siamo cresciuti in una bolla. Tu sei arrivato su quella sedia lì, formato ed educato da una bolla rigidissima, violentissima. Adesso stacco e guardo la bolla di mio figlio di 17 anni e mi fa ridere come bolla. Mi fa ridere. Mi fa venire perfino il dubbio che non è abbastanza bolla per tirare su persone che possono poi sedersi lì a fare che tempo che fa o da questa parte a scrivere libri. Ma insomma, chi è passato da lì si può spaventare dal fatto che YouTube non dà a mio figlio le ultime sui suprematisti bianchi perché a lui non gliene fotte niente e gli dà invece la cucina perché gli interessa. Sì, gliela dà cento volte al giorno, a noi la davano solo la sera alle venti. D'accordo, ma ti tari anche tu. Non sono stupide. Una forma di difesa ce l'avranno pure. E' incomparabile, diciamo. Beh, insomma. Le due bolle sono incomparabili. Sono incomparabili. Assolutamente. Allora, nessuno di una certa età dovrebbe mai pronunciare questa però la bolla relativa alla civiltà digitale. Non può dirla. Non può dirla. Io avevo un paio di amici comunisti. Comunisti? Era un partito che c'era in Italia? Esatto. Ma erano quelli proprio di famiglia. Avevano addirittura una famiglia che erano ricchi e abitavano in periferia perché erano comunisti. E questo però non riuscivo... E certo, perché il comunista di allora non poteva stare in centro. No, stavano in un condominio dove avevano fatto una cooperativa. Certo. Era tutto giusto. Erano giornalisti, comunisti, eccetera. Però io non riuscivo nemmeno a farla bene del concetto. Però, ecco, lì si crepava per un attimo la bolla, ma eravamo così lontani, c'era una tale lontananza che non c'era nessuna reale possibilità di percepirli come qualcosa con cui tu potevi avere un dialogo. Erano dei strani personaggi che poi tu a casa dicevi, ma guarda che non sono cattivo. Comunista, mio padre, comunista ma bravissima persona. E' vero, era un adagio assolutamente corrente. E allora capisci che adesso, boh, preoccuparmi più di tanto. Senti, siccome hai parlato anche di quelli di là che scrivono libri, io volevo far vedere che questo ormai è un successo già accreditato. Eccolo qua, Abel, che è l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco, è uscito per Feltrinelli a novembre e a questo libro tu tieni moltissimo, perché è un libro che tu hai scritto per te innanzitutto, che non pensavi dovesse uscire. E quindi vorrei chiedere perché ci tieni tanto davvero, perché lo senti così vicino? Anche perché è un libro che in realtà è una storia che è collocata in un altro tempo, in un altro luogo, molto lontano da noi. È un western questo libro. Che cos'ha di te? No, è successo che io nella vita mia, a un certo punto, a un certo punto ho pensato che era arrivato il tempo per dedicarmi a tutta la parte di me che avevo messo a tacere per fare quello che volevo fare, cioè arrivare in cima al mondo scrivendo libri, facendo televisione, tutto. Sono cresciuto con quell'idea lì e diverse volte nella vita devo aver detto no, a te stai buono un attimo, ma arriverà il tuo momento. È arrivato il suo momento. È coinciso anche con la mia decisione di mettermi nella situazione di non aver bisogno di scrivere romanzi per far vivere i miei figli, per far vivere me bene. Ho fatto altri mestieri, ho scelto altri mestieri, mi sono messo al sicuro. Per cui più nessuna necessità. Ecco, se non scrivevo più una riga nessuno moriva. E lì infatti non ho scritto più nulla per un certo periodo. E poi ho iniziato Abel, non pensando di pubblicarlo, perché scrivere è un rito pazzesco e mi mancava. È una cosa delle mani, è una cosa del corpo, è una musica, è un ritmo, è quello che hai per dialogare con... E quindi non potevo fare... Una sorta di preghiera, in qualche modo. Sì, adesso lo so che quando la dico tutti mi ridono dietro, ma... L'ho detto in maniera proprio bruciante, una volta in pubblico, mi hanno detto cosa è per lei adesso scrivere... E io ho detto una preghiera, fa ridere, mi rendo conto, si è bevuto il cervello. C'è una ritualità intanto. Sì, sì, però in realtà potessi ricostruirla tutta, te la spiegherei. Ma sì, è una forma di preghiera. Però alla fine poi effettivamente sono dovuto arrivare alla conclusione che scrivere libri per te stesso, veramente come quelli che giocano con la palla contro il muro, cioè c'è un tratto di tristezza che non puoi fare niente per togliere. Io continuavo a avere... Stavo bene, ma avevo questo tratto di tristezza e tutte le volte che i miei figli, Gloria, la donna con cui vive... In un momento, che adesso è diventata mia moglie, mi diceva... Da poco, da dicendo. Da pochissimo. Perché non pubblici questa roba? Auguri, però. Grazie, grazie. È una bellissima cosa della mia vita di cui vado molto fiero. E mi dicevano, ma fallo, fallo, fallo. Insomma, tutte queste cose mi stessi insieme troc, eccolo qua. Adesso sono legato perché, chiudo, perché in questo libro qua c'è l'uomo che io non sono mai riuscito a essere per molti anni, perché mi fregava troppo di tutto il resto e che poi invece alla fine sono riuscito abbastanza ad essere e questo è il libro dedicato a lui. Tutti i nostri libri sono dedicati a noi stessi. Tutti i libri degli scrittori contengono gli scrittori. Non illudetevi. Non ci sono che libri autobiografici. Ma non nel modo... Sì, alcuni libri sono autobiografici adesso che proprio raccontano la loro storia. Sono i meno interessanti di solito. Invece tu dici... Sì, di solito, se non sono scritti da un grandissimo, diciamo, sono i meno interessanti. Però è fantastico come i libri sono. I libri sono talmente autobiografici autobiografici che alle volte tu scrivi cose che non ti sono ancora successe e che ti succederanno. Interessante, volevo farti ancora due domande. Una riguarda la parola narrazione, una parola molto adoperata in questi tempi, dall'ultimo punto di vista, la nuova narrazione della politica, bisogna avere una narrazione. Qual è il rapporto fra la narrazione e la realtà? La narrazione è una parte della realtà. La realtà è fatta di fatti e narrazione. Un fatto senza una narrazione non esiste. Una narrazione senza un fatto è arte. La narrazione non è qualcosa che tu applichi. C'hai una bella azienda di vini, avremo bisogno di una narrazione. C'hai un bel partito, ma non siamo capaci a narrarlo. C'è una bella trasmissione fatta proprio bene, ma non riusciamo a raccontare quello che facciamo. Non avete fatto niente. Non è una cosa esterna alla realtà che poi tu aggiungi. No. Alla nostra scuola, la Holden, che circola proprio in... Trent'anni, peraltro. La Holden quest'anno, lui è il preside della Holden, il signor preside. L'applauso va a tutti gli oldeniani. Grazie. Grazie. E se abbiamo questa bellissima definizione per capire cos'è la narrazione, cos'è lo storytelling, prendi la realtà, sfilavi ai fatti, quello che resta è narrazione. È bello. È bello perché ti mette la narrazione dentro la realtà. E poi un calcolo che puoi fare subito, guarda, conte, lo prendi, tira fuori i fatti, il resto è narrazione. Che non vuol dire che il resto è delinquenza. No, no, no. Ci sono delle cose che ci sono piaciute tantissimo che erano 80% una narrazione. Assolutamente. Che però è diverso dalla realtà. Cosa diversa, per l'appunto. La realtà li comprende tutti. La politica poi in questo senso usa la narrazione in modo molto cinico. A te, dissero anche quando lavorai per Renzi, ti disse l'importante non è che una cosa sia vera, è meglio una cosa non vera ma efficace. Però questo... Che è una lezione importante anche. È importante del mestiere giusto. Cioè, in quel mestiere lì, io credo che quello sia l'approccio più sensato. Perché è vero che una soluzione a un problema del paese che non puoi narrare e che la gente non può capire non risolverà nulla del paese. Una soluzione meno precisa, un po' sbagolante, che non abbiamo neanche tanti soldi ma che la gente capisce. Tac! Guarda, la gente cambierà, ti aiuterà, starà dalla tua parte, risolverà più cose. È vero. Senti Alessandro, intanto vi farebbe un sacco piacere continuare a parlare per ore se tu avessi mai voglia di tornare quando ti va. È un grande piacere. Ma volevo chiudere con una domanda perché ho trovato una frase molto brutta da dire così, ma la dico, utile, proprio, che possiamo utilizzare, che ci può servire. È evidente che Alessandro Baricco, nonostante tutte le difficoltà che hai enunciato così generosamente all'inizio, è felice. C'è sposato il 16 dicembre e quindi vuol dire che sei in una nuova vita. Però hai detto a proposito invece dell'infelicità che è l'incapacità di lasciare andare il mondo anche quando si subisce un'ingiustizia. Poi hai spiegato perché, ma vorrei che lo spiegassi al pubblico. No, c'è questa cosa che io non avevo mai capito nella vita, l'ho scoperta molto tardi. Perché che tu ti giochi una buona una buona quantità delle tue possibilità di stare sul pianeta Terra con felicità, te la giochi sulla capacità che tu hai di lasciare andare le cose. Dalle più semplici, hai perso gli occhiali, lasciali andare. non ci vedi un caso. Lascia andare quello che fa. Adesso di nuovo diranno si è bevuto il cervello. Allora, taratelo. Cioè, poi sono qua, non è che sono un ritardo di tre ore. Però hai perso un amico. Lascialo andare. Hai vissuto un momento di felicità bellissimo con un amico. Ecco, il pensiero è sempre rivediamoci la prossima settimana. Lascialo andare. appena detto di tornare. Eh sì, lo so, anche questo. Lasciami andare, Fabio. Lasciami andare. Ti lascio andare, ma come si diceva, non perdiamoci di vista. Non perdiamoci di vista. Sentiamoci. Udialo. Eh? Ok? Grazie. Grazie. Alessandro Barì. Grazie. 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 Grazie.